Buono, facile e veloce Le verdure ripiene sono un classico della nostra cucina e si prestano ad infinite varianti questa è quella che vi presento io oggi peperoni ripieni con ricotta e zucchine ecco gli ingredienti che ci occorreranno 4 peperoni, meglio se alcuni gialli e alcuni rossi poi un paio di zucchine della cipolla, tutti i prodotti freschi di terra orti poi ci occorrerà dell'aglio, del prezzemolo e dell'origano quindi della ricotta, se preferite quella di pecora, di mucca, di bufala a vostra scelta poi un uovo, un mix di formaggi grattugiati quindi del grana e del pecorino ovviamente sale, olio e pepe e poi del pane grattugiato e allora adesso iniziamo subito a preparare tutte le nostre verdure per prima cosa taglio le zucchine dobbiamo tagliarle a cubetti molto piccoli oppure se preferite un'altra alternativa valida è quella di tagliarle a julienne semmai con l'apposito attrezzo adesso prepariamo un trito con più o meno mezza cipolla a cui aggiungiamo dell'aglio e del prezzemolo a questo punto tritiamo tutto finemente adesso ho già pronto una padellina nella quale andrò a rosolare questo trito lo faccio soffriggere un po' aggiungo le zucchine regolo di sale un po' di pepe e adesso faccio andare a fuoco vivo per circa 10 minuti adesso mentre le zucchine sono in cottura ci occupiamo della preparazione del ripieno diamo inizio a questa lavorazione innanzitutto 400 grammi di ricotta andiamo a metterli in una ciotola e li lavoriamo un po' con la focchetta adesso aggiungiamo il grana grattugiato o parmigiano origgiano come preferite circa 50 grammi e altrettanti di pecorino quindi un mix di formaggi grattugiati adesso amalgamiamo per bene e quando i formaggi saranno ben incorporati alla ricotta andremo ad aggiungere un uovo ok vedete la ricotta ha incorporato benissimo i due formaggi per cui è il momento di aggiungere l'uovo e andiamo chiaramente a incorporare anche questo adesso al nostro ripieno mancano soltanto le zucchine per cui andiamo a controllare a che punto è la cottura benissimo anche le zucchine sono pronte quindi proprio alla fine aggiungiamo un pizzico di origano e spegniamo una volta raffreddate le zucchine e appena intiepidite possiamo aggiungerle al nostro ripieno e andiamo ad amalgamare il tutto e adesso non ci resta che preparare i peperoni per accogliere il ripieno dobbiamo ovviamente privarli della calotta e svuotarli eliminando semi e filamenti interni e filamenti interni in questo modo in questo modo li farciremo interi ma in alternativa possiamo anche tagliarli a metà così per il lungo e otterremo due barchette da farcire naturalmente anche in questo caso dobbiamo eliminare semi filamenti quindi ripulirli così internamente facendo attenzione a non romperli e avremo due barchette da farcire quindi come più vi piacciono interi o così a barchetta in effetti quando non hanno una forma molto regolare conviene farli a barchetta perché altrimenti avreste difficoltà a tenerli in piedi ma a tutto si può ovviare insomma allora a questo punto dopo averli tagliati nella maniera che preferite dobbiamo farcirli e ci portiamo già avanti con il lavoro prendo già una pirofila che andrò ad ungere con un filo d'olio perché una volta farciti chiaramente i peperoni verranno adagiati nella pirofila stessa direttamente ecco qui e allora prendiamo un peperone metto un pizzico di sale all'interno dei peperoni e poi farcisco con il nostro composto di ricotta e zucchine per quanto riguarda il composto come avete visto non ho aggiunto sale perché in realtà ci sono già i formaggi cioè il pecorino e il grana che danno la giusta sabidità però eventualmente insomma assaggiate e regolatevi di conseguenza cerchiamo di farlo in maniera più o meno omogenea e lo adagiamo nella pirofila lo stesso facciamo con un peperone intero riempiremo la cavità in questo modo così è sufficiente e poi andremo a riporlo nella pirofila vedete questo si mantiene piuttosto bene in piedi altrimenti quando non hanno questa forma regolare preferiamo farli a barchetta anche per il peperone intero un po' di sale all'interno e poi marciamo mettiamo della nostra pirofila per finire irroriamo con un filo d'olio e poniamo in forno già caldo a 180 gradi per circa un'oretta di tanto in tanto durante la cottura dobbiamo irrorare i peperoni con un filo d'olio e con il fondo di cottura l'unione fa terra orti nel cuore della Piana del Sele da sempre aziende agricole mettono passione ed edizione per offrire il meglio della loro splendida terra dalla loro associazione nasce terra orti organizzazione di produttori in grado di fornire prodotti ortofrutticoli di altissima qualità durante tutto l'anno coniugando tradizione e modernità passione e qualità dal cuore della Piana del Sele il meglio dell'ortofrutta italiana garantita terra orti verso fine cottura mescoliamo un po' di grana con del pan grattato e 10 minuti prima di togliere i peperoni dal forno li spolverizziamo con questa miscela di grana e pane grattugiato in modo che si presentino con una crosticina croccante e dorata preparati in questo modo cioè cotti direttamente in forno senza averli precedentemente fritti in padella i peperoni risultano sicuramente più leggeri e così in questa ricetta il gusto dei peperoni sposa un ripieno dal sapore delicato così come delicata è anche la cottura direttamente in forno ed ecco qui i nostri peperoni ripieni con ricotta e zucchine in due versioni a barchetta o intero in entrambi i casi buono facile e veloce appuntamento prestissimo con una nuova ricetta a a Grazie a tutti. Grazie a tutti.